Benvenuto a Luca Signorini, dalla pasticceria Signorini, direttamente da Toscana. Che cosa ci ha portato? Allora, mi ho portato il panettone quello tradizionale classico, ovviamente si parla sempre di materie prime di super qualità, un burro all'82% in materia grassa, miele da caccia toscano, arancia candita e abbetto australiano. E poi mi ho portato un prodotto tipicamente toscano, l'ho fatto da un anno, è composto dalla base dell'impasto del panettone classico, ho tolto una parte di burro e sono andato a fare un'emulsione di olio extravergine d'oliva del nostro raccolto, abbiamo una casa in campagna, noci e basilico fresco. Prodotto puramente toscano, pensavo di venire qui e che ai milanesi non piacesse, invece ho fatto gran successo. E' un prodotto che si abbina bene sia con i dolci che con i prodotti salati, sia insolito. Spero anche il prossimo anno di essere presente, volevo anche ringraziare chi mi ha invitato. E' una prestazione molto molto bella e molto molto di qualità. Quindi ringraziamo per essere qua, complimenti per i suoi prodotti e alla prossima edizione. Ci mancherebbe, grazie. Grazie. Grazie a tutti.